Ok, pruscinata a Rocca e abbalarda. Perché se un'altra, fottuta è Erick. Calga. E' il tuo libro! Eeeh! 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 Voi con il mio video è che è Ericka! Ma è che è morto! Oh, è morto! Luka! Luka! Che tuuuu! Che tuuuu! E' un po' che è... Ah, vediamo! Non lo so, non lo so Ah, va bene è un po' che è! No, non lo so Non lo so Pago! Ah, non lo so Lui, non c'è mai. E chi è che sta con me? Ma non è arrivato. Ma che faccio con te? Sì, Monica, io lo faccio. Si, 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 si. Calmo, non ti agita. 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 Non ti agita.